Io penso che noi dobbiamo soprattutto partire dalla condivisione che si è realizzata nella maggioranza, poi confrontarci con tutti perché credo che questo sia un dovere istituzionale nel momento in cui si affronta un tema importante come quello della giustizia, però mi pare che su questo i titoli, le indicazioni, le proposte normative abbiano già dato delle risposte che sono più eloquenti di qualunque tipo di mia affermazione.